ciao a tutte benvenute in un mio nuovo video oggi voglio registrare un video brevissimo per condividere con voi un piccolo pensiero che mio marito mi ha voluto fare per la festa della donna prima di iniziare vi ricordo se vi fa piacere di iscrivervi al mio canale per supportarmi lasciarmi qualche like attivare anche la campanella per ricevere le notifiche se ravvertite ogni volta che esce un mio nuovo video iniziamo subito allora il pensiero che mi ha voluto fare il mio marito mi ha voluto regalare questo braccialetto in acciaio no brand che adesso vi mostro indossato ovviamente col mio nome l'unica pecca è questa parte diciamo che rimane rialzata che ovviamente non posso abbassare perché si romperebbe in acciaio che praticamente la chiusura del bracciale però a me piace tantissimo e quindi non mi importa avevamo visto ad alghero in un negozio che d'ora in poi bazzicherò sempre lì ha una cosa più bella dell'altra quante cose belle ci sono in questo negozietto che vende normalmente coralli cose tipiche sarde ma un angolo dedicato ai braccialetti diciamo con i nomi collane e anche degli orecchini di bigiotteria bellissimi come li cercavo un po di tempo fa un po grandi quando poi avevo acquistato quelli di raspini ho chiesto a mio marito quanto veniva questo bracciale e mi sembra che venisse 36 euro glielo ho anche chiesto e non mi ricordo la cifra esatta normalmente questi bracciali con il nome almeno nei negozi tipo stroili o altri negozi non hanno uno o due nomi e sono da ordinare e da realizzare da far realizzare questo signore era veramente rifornito con i nomi c'erano tantissimi tipi di bracciali e collane e aveva tantissimi nomi a disposizione c'erano dei braccialetti un po più cari ripeto è un negozio che merita tantissimo comunque come vi ho detto il video brevissimo ho voluto farvi vedere questo braccialetto perché mi piace tanto e questo lo terrò fisso spero di non stracciarmi i maglioni di ricordarmene perché se me ne dimentico e tiro il maglione è andato comunque basta e niente vi lascio all'outfit e poi ci vediamo per i saluti e vi faccio vedere il profumo e rossetto che ho utilizzato oggi dopo registrerò un altro video dove mi vedrete vestita nella stessa maniera e accorcerò con voi questa collana e non so se accorcerò anche il bracciale di marlou quello non lo so la collana sicuramente spero di non sbagliare vi lascio all'outfit ed ecco il mio outfit di oggi me l'avete visto già in un altro video come potete vedere io questo capottino 10 m lo sto utilizzando tantissimo idem per quanto riguarda il maglioncino rosso che mi vedete oggi che ho anche in un'altra tonalità acquistato dai cnm a pochissimo questa è una donna che ho da parecchio tempo è una donna di motivi poi i miei soliti pantacolland e le solite scarpe di prima donna con le frange soliti stivali appoggio il capotto perché voglio farvi vedere per la prima volta indossata la borsa ed eccola qua gli ho fatto fare questa tracolla senza regolazione e mi piace tantissimo la trovo comoda l'altezza che gli ho voluto dare basta vi lascio ai saluti ai gioielli profumo e tinta e rieccomi qua spero ogni volta col microfono non far macello perché ho dovuto registrare alcuni pezzi dove mi ero dimenticata il microfono appoggiato e ci buttavo sopra di tutto e non riuscivo neanche c'è dava fastidio a me mentre editavo spero perché veramente col microfono ne combino di tutti i colori quindi debora non sei sola anch'io poi tra l'altro io lo uso da poco ne combino di tutti i colori veramente allora il rossetto il mio asian touch che mi sto trovando bene e quindi sto utilizzando e il profumo in questa confezione è tiffany love cosa indosso allora i miei due soliti orecchini di ambrosia gli orecchini d'oro giallo poi in questo lato qui ho il braciale marlù che io vi ho detto farò un video subito dopo non so se accorciare perché in effetti se porto cioè portando tanti bracciali in qualche bracciale un po più grande mi fa comodo quindi presumo che accorcerò solo la collana l'orologio poi io il mio cordino uno dei 50 e il ferma coda in quest'altro lato qua ho il mio apple watch poi io il bracciale su fil il bracciale stroili quello save maria il rebecca con la personalizzazione e il nome del mio canale poi simil cartier e questa è la new entry allora sono stata domenica la queen e confermo che purtroppo ahimè anche a sassari hanno tolto il corner rebecca mi è dispiaciuto tantissimo primo perché ci lavorava una mia cliente e quindi mi dà fastidio cioè mi dispiace e secondo cioè era molto bello quindi mi dispiace sinceramente che non sia più presente un corner monomarca rebecca per quanto la cosa scomoda che la queen effettuava l'orario continuato il corner era chiuso comunque il video termina qua e noi ci vediamo domani con un altro mio video ciao a tutte